Buonasera a tutti, mi avete scritto in tanti via mail, qualcuno anche via WhatsApp per chiedermi gentilmente se avessi potuto pubblicare prima sul canale YouTube il video di Repilio Gosterale. Questa sera ci sono riuscito anche se la mia giornata non finisce con questo video perché poi ho tantissimi altri impegni ma non vi voglio assolutamente annoiare. Vi devo però dire che secondo me sta passando un messaggio sicuramente sbagliato rispetto all'andamento del mercato a partire da lunedì perché lunedì ovvero ieri c'è stata questa forte risposta a rialzo da parte del mercato e soprattutto oggi bene o male comunque non c'è stato un ritracciamento per cui classico rimbalzo del gatto morto e alcuni titoli mi viene in mente Stellantis che mi ha particolarmente stupito hanno fatto anche massimi di periodo decisamente importanti. Quello che però intendo dire è che purtroppo ci troviamo in una situazione in cui soprattutto i giornali generalisti, i telegiornali generalisti si soffermano sulla variazione del Fuzimib e non guardano nemmeno più di tanto all'interno del Fuzimib stesso quello che succede perché abbiamo per esempio quattro titoli che vi cito spesso che Smolland, Fineco, Diasorin e Nexi anche se Nexi fortunatamente e ci arriveremo tra poco sta lentamente riprendendo livelli di prezzo più accettabili ma viene trascurato tutto il resto del listino voi mi direte ovviamente però questa lacuna immodestamente cerco tutti i giorni di colmarla io perché vedere vedere un movimento come quello odierno su risanamento è assolutamente da mal di testa vedere quello che è accaduto oggi su Seri in Dastial dopo il rally incredibile che è riuscito a fare nella giornata di ieri è ugualmente incredibile ma anche le vendite su un assecco che ormai si sta avvicinando ai propri minimi storici per non parlare di tutti quei titoli che tutti i giorni fanno minimi di periodo ma anche minimi storici e ce ne sono diversi ogni giorno per cui cerchiamo di fare una sintesi di tutto questo partiamo come nostro solito vi condivido lo schermo dagli indici americani e vediamo che tutto sommato il Dow sta cominciando a fare fatica perché vedete che oggi prova a riportarsi sui massimi di ieri che sono stati a 33.898 ha fatto 33.882 ma poi ritraccia siamo ancora in candela inside e conferma la difficoltà a riportarsi sopra la media mobile a 200 che transita a 33.812 è ovvio che nulla su una candela inside è compromesso però è molto importante il minimo di ieri che è 33.604 perché sotto questo livello è possibile un ritorno almeno fino al minimo di venerdì che è 33.253 oltretutto la candela di chiusura di ieri è più che altro una shooting star per cui dopo un mini rally di breve periodo può anche comportare una fase di consolidamento al contrario una rottura di 33.898 riporterebbe il Dow a 34.017 34.156 e poi sulla media mobile a 200 34.276 vediamo adesso lo Standard & Poor's 500 siamo più o meno nella stessa situazione perché anche per lo Standard & Poor's 500 abbiamo una candela inside il massimo di ieri è stato 4.385 rimane ancora da chiudere un gap lasciato aperto sul minimo del 20 di settembre a 4.401 poco sopra i massimi di ieri transitano la media mobile a 100 4.399 la media mobile a 50 4.410 come per il Dow il livello più importante per il breve è 4.339 sotto si andrebbe subito a 4.283 a rialzo al di là della media mobile a 100 che vi ho citato poc'anzi a 4.399 c'è ovviamente la chiusura gap a 4.401 e poi il 4.410 della media mobile a 50 perché non mi schiero apertamente per una soluzione piuttosto che per l'altra perché comunque una candela inside è il massimo dell'incertezza per primo motivo e poi comunque diciamo che di breve abbiamo assistito sui principali indici americani a un rally per cui ci può stare anche un leggero consolidamento Nasdaq Composite in questo caso ieri c'era stato un tentativo di superare sia la media mobile a 50 13 anzi quella a 100 13.592 e poi anche quella a 50 13.622 ma la chiusura è stata sotto a 13.562 oggi il massimo è stato 13.671 per cui vedete già una prima differenza il Nasdaq Composite è riuscito a fare un massimo superiore al massimo di ieri quindi nuovo massimo di breve periodo per cui per quanto riguarda il Nasdaq Composite nonostante ci sia stato poi un ritracciamento dai massimi intraday è più probabile un ritorno a 13.727 poi 13.895 13.957 ovviamente siccome come per Dow e Standard & Poor's 500 la perdita dei minimi di ieri in questo caso 13.491 sarebbe comunque pericolosa dobbiamo considerare che se questo dovesse avvenire è probabile a quel punto un ritorno a 13.277 13.099 però ripeto sul Nasdaq Composite sono più positivo più ottimista Nasdaq 100 ieri 15.241 oggi 15.248 come massimo di giornata quindi qui abbiamo sicuramente una situazione ancora più positiva perché siamo già ritornati sui massimi del 20 di settembre quindi i target successivi sono 15.435 15.512 a differenza del Composite qui siamo anche sopra la media mobile a 100 che è 15.010 e anche la media mobile a 50 15.072 primo livello importante è ovviamente il minimo di ieri 15.050 sotto 14.816 14.575 però attenzione ribadisco il fatto che a livello di Nasdaq sia Composite che 100 la situazione mi sembra sicuramente migliore adesso volevo cercare il Russell perché vedete che purtroppo oggi peraltro viene da mini rally di breve periodo fa però una seduta di consolidamento è importante che non venga perso il minimo di ieri 1759 perché sotto avremo 1735 e poi 1714 il minimo di periodo è stato a 1709 trasferiamoci in Europa DAX DAX oggi vedete comunque un segnale ugualmente positivo perché nuovo massimo di breve a 15.486 prossimi obiettivi 15.515 massimo del 29 di settembre e poi incrocio delle medie mobili a 200 15.628 e a 50 15.639 l'unica preoccupazione che ho riguardo al DAX è il gap lasciato aperto a 15.201 Caccarant qui invece la situazione è leggermente diversa ma è presto spiegata perché ovviamente il Caccarant che oggi chiude addirittura negativo è condizionato pesantamente dalle forti vendite su Louis Vuitton dopo la comunicazione credo fossero ricavi preliminari mi ha un po' stupito che il titolo sia stato così venduto perché alla fine potremmo definire solo segmento alcolici ad avere realmente deluso comunque come per il DAX abbiamo anche qui un gap aperto sul massimo di vendita 7.057 nonostante tutto ritengo ancora possibile un ritorno a 7.197 7.205 poi le medie mobili in sequenza 50 7.222 207.241 107.257 Eurostox Eurostox fa una doji candela di indecisione è su quest'area di resistenza piuttosto importante vedete 4.218 massimo del 22 di settembre 4.215 che è il massimo del 29 di settembre oggi 4.217 quindi è su un triplo massimo sporco nonostante questo vedo ancora spazio per un recupero fino alla media mobile a 50 4.239 media mobile a 200 4.261 massimo del 21 di settembre 4.271 Eurostox banks qui abbiamo una situazione decisamente più favorevole siamo quasi arrivati a target sul massimo del 2 di ottobre 112.77 poi avremo 113.59 e il massimo del 30 di agosto 114.24 veniamo al nostro Futsi Meal Futures anche qui nonostante la chiusura o meglio nonostante si trovi perché sta ancora negoziando negozia fino alle 22 non in prossimità dei massimi di giornata che sono stati a 28.585 quello che notiamo che in questo momento il nostro Futsi Meal Futures si trova anche sotto la media mobile a 50 che è 28.395 in realtà come per Caccarant e Dax ma anche per Eurostox potrebbe esserci un'ultima gamba rialzista fino a 28.730 28.765 semmai il problema è come ci stiamo arrivando con il solito problema del della mancanza di coralità a livello di rialzi anche dello stesso Futsi Meal adesso vedremo proprio i casi specifici veniamo adesso al mid cap che oggi fa praticamente il massimo di ieri e poi ritraccia in realtà per le prossime sedute 39.885 40.069 sono oggettivamente raggiungibili Futsi Star invece fa leggermente meglio con un nuovo massimo di breve periodo a 41.906 prossimi obiettivi 42.318 42.488 vediamo che i volumi sono ancora in leggero calo per quanto riguarda i volumi complessivi oggi abbiamo fatto 2.249.000 per cui è il secondo giorno consecutivo che siamo più nettamente sopra i 2 miliardi e oggi 464 milioni di euro sono stati scambiati nelle aste finali veniamo adesso al Futsi Mib e dobbiamo ovviamente parlare dei titoli migliori e dei titoli peggiori allora per quanto riguarda i titoli migliori oggi dobbiamo partire indubbiamente da Montepaschi tra l'altro Montepaschi ha avuto anche una sospensione per eccesso di rialzo a 2.583 al momento siamo in un ampio trading range compreso tra questo minimo quello del 28 di settembre 2.363 e il massimo del 5 di ottobre 2.65 mi dà l'idea dopo la seduta di oggi che voglia ritornare nella parte alta del range per cui 2.65 al limite andare a 2.677 per me è assolutamente incomprensibile come si sta muovendo Montepaschi seconda seduta consecutiva di rialzo per Iveco oggi tra l'altro dà un segnale importante andando sopra la media mobile a 50 8.987 facendo un massimo a 9.158 chiudendo a 9.078 prossimi obiettivi 9.208 9.35 e poi 9.41 e 4 Biper qui stiamo assistendo a un tentativo di ritorno sui massimi di periodo il massimo del 6 di ottobre è stato 2.964 oggi ha fatto 2.968 ma ha chiuso 2.962 per cui una sorta di doppio se non quasi triplo massimo di breve con il massimo anche del 26 di settembre qui l'obiettivo è a questo punto 3.063 ecco questa volevo farvi vedere poi Stellantis che l'avevo già anticipato Stellantis è fortissima io non me lo spiego lo dico apertamente per carità vi avevo dato un target a 18.88 l'ha anche superato poi mi ero azzardato a dare anche un obiettivo a 19.35 che vi ricordo via largo grafico così lo vedete e così lo vedete bene essere anche massimi storici oggi è quasi arrivato a target perché se rimettiamo un attimo la candela e daily ha fatto comunque 19.206 ora può andare di nuovo sui massimi storici può anche superarli però attenzione perché sotto 18.88 è ovviamente plausibile utilizzare uno stop profit per chi fosse in posizione ancora su Stellantis considerato che poi ha lasciato comunque un gap aperto a 18.05 perché non mi capacito di questo rally di Stellantis perché ieri vi ho parlato di Volkswagen ma può essere presa ad esempio anche una Renault sono decisamente in situazioni ben diverse Volkswagen addirittura è vicino ai minimi di periodo oggi c'era la notizia della Gigafactory penso in indiana però non credo neanche che sia stato più di tanto quello che abbia poi mosso il titolo bel recupero di Saip dopo aver testato il 4 di ottobre la media mobile a 200 oggi fa un massimo in 3D a 1.52 a 2.35 superando finalmente la media mobile a 50 a 1.48 e mezzo primo obiettivo per aspettate ecco qua oh ecco no scusate questo e questo queste sono solo le cose devo vedere per i volumi ecco questo cercavo scusate la stanchezza si fa sentire allora dicevo oggi è tornata praticamente sul massimo il 22 di settembre poi massimo del 21 di settembre 1.56 e 8 quindi direi che questo può essere un primo obiettivo poi 1.63 e 6 cosa c'è da dire che sicuramente il mood su Saipem è cambiato che potrebbe andare anche a cercarsi i massimi di periodo a 1.65 e 5 e direi che chi è in posizione fa bene a mantenere il titolo continua sempre a essere fortissima Leonardo perché comunque è ritornata praticamente sui massimi di periodo cioè mancano poco manca poco i massimi di periodo perché 14.165 oggi ha fatto 14.015 può ritornarci sì la cosa incredibile è che se dovesse superare anche i massimi di periodo l'obiettivo potenziale di tour è 15.09 poi nella seduta odierna direi che si è comportata bene anche Unipol che anche Unipol sta provando a tornare sui massimi di periodo per cui 5.272 poi dobbiamo andare a prendere proviamo con un settimanale direi che l'obiettivo potrebbe poi diventare 5.41 8 andiamo avanti e devo parlarvi anche di Nexi perché le sensazioni positive che sta fortunatamente trasmettendomi il titolo oggi hanno avuto conferma in realtà già ieri mi ero occupato di Nexi dicendovi che aveva rotto sia una trendline ribassista che una resistenza statica prossimi obiettivi 5.894 6.12 e 2 concludo i titoli a più larga capitalizzazione che hanno fatto una performance positiva con Enel molto vicino alla media mobile 200 5.832 prossimi obiettivi 5.869 5.888 5.894 poi direi area 6 dove transita anche la media mobile a 50 veniamo invece adesso ai titoli che sono stati più venduti oggi faccio anche un po' di mid cap capirete perché comincio però da Diasorin che continua a soffrire molto io nonostante oggi abbia perso il 3 e 43% credo che se non dovesse perdere 84.18 cercherà quantomeno di mantenersi all'interno di questo trading range tra 84.18 e 88 scusate 54 al limite andare fino a 90.04 per cui non è ancora detto poi se perde il minimo ovviamente vi avevo già fatto vedere in video del recente passato gli spazi di discesa possono diventare anche abbastanza importanti perché è vero che abbiamo un 82.9 ma poi si va a 81 si può arrivare a 79.05 Brunello Cucinelli qui purtroppo Brunello Cucinelli non paga tanto questioni ovviamente societarie ma paga i dati considerati non così brillanti di Louis Vuitton oggi fa peraltro una spinning top simil doji candela di profonda indecisione perde il 3.19% dopo il bel segnale di ieri magari comincerà una fase di trading range in cui nell'ipotesi peggiore potrebbe ritornare a 68.55 nell'ipotesi migliore tornare a 75.3 eventualmente 75.55 Campari ecco Campari invece è venuta giù io non ho letto nulla poi ho sempre mille cose da fare per cui se è un titolo che magari non sto tradando non ho neanche il tempo per approfondire però diciamo che sta proprio facendo fatica a mantenersi sopra la media mobile a 200 che passa a 11.48 oggi perde anche la rialzista di breve partita dai minimi del 28 di settembre direi che il rischio di rivedere il titolo a 11.05 poi c'è un micro gap da chiudere a 11.015 ma non è ancora detto perché comunque potrebbe anche muoversi in training range e magari cercare di ritornare a 11.59 poi ovviamente non posso non parlare di Moncler allora Moncler forse è stata una grande occasione che io ho mancato ci tengo a dirvelo sono stato anche sfortunato perché con le prime centuazioni in acquisto ero a 52.02 ha fatto 52.08 però chi ha avuto la bravura il coraggio di comprare in apertura è stato premiato perché il titolo ha aperto a 52.66 ha fatto un minimo a 52.08 ma poi è andato a fare un massimo a 54.64 chiudendo a 53.9 vale quanto detto per Brunello Cucinelli ovvero che la discesa odierna è dovuta alle vendite sicuramente importanti che ci sono state sull'Iuiton se non perde il minimo odierno 52.08 comunque può continuare a muoversi in 3D range tra 52.08 e 56.24 venduta anche Saras che paga un po' di debolezza sul futures sul petrolio qui è un po' il discorso fatto prima con Campari sta facendo fatica a mantenersi stabilmente sopra la media mobile a 200 che adesso passa per 1.29 e mezzo a chiuso 1.27 6 qui rispetto a Campari il rischio è che ritorni a 1.23 3.85 eventualmente 1.23 1 che è livello della media mobile a 100 guardiamo anche Ferragamo perché oggi ripeto il lusso è stato ben venduto Ferragamo si è difesa perché ha comunque chiuso a meno 0.50 dopo un minimo a 11.75 ha chiuso a 12.03 per il momento credo che se non arrivano altre brutte notizie al di fuori del perimetro societario almeno fino a 12.35 12.61 e poi 12.87 possa ritornare adesso invece occupiamoci dei titoli che invece hanno fatto meglio al di fuori del Futsimib parto con Bantea perché è stato un movimento clamoroso perché è andata su poi ha ritracciato in maniera anche significativa e poi ha di nuovo recuperato andando addirittura a chiudere sui massimi giornata a 2.10 come ho già detto ieri a questo punto rimane 2.40 un obiettivo credibile credibile oggi abbiamo chiuso 2.10 ed è chiusura del gap lasciato aperto sul minimo del 29 settembre poi media mobile a 50 2.44 e 2 poi ve ne avevo già parlato nel recente passato di BeWise l'ex full 6 era un po' di giorni che non scambiava però vedete oggi sono entrati volumi importanti sul titolo è addirittura andato sulla media mobile a 200 che passa per 0,6 9 7 5 e visti ripeto i volumi per il titolo piuttosto importanti non mi stupirebbe di vederlo a 0 708 0 71 e 4 poi eventualmente 0 72 0 72 e 8 oggi ho visto partire anche clabo clabo che veniva da una fase veramente piuttosto negativa non tanto le ultime le ultime sedute quanto dal massimo del 21 luglio 2 46 siamo arrivati ieri a 1 59 e mezzo oggi invece acquisti per il titolo abbastanza importanti massimo 1.88 chiusura 1.79 praticamente quasi sulla media mobile a 50 per le prossime sedute può ritornare sulla media mobile a 100 1.88 e mezzo poi eventualmente sulla media mobile a 200 1.92 e mezzo seduta di quantomeno risveglio per Datrix è stata sostanzialmente respinta dalla ribassista partita dai massimi 24 di luglio massimo in 3.2 e 10 poi chiusura 1.98 però quantomeno mi dà l'idea che il titolo i minimi di breve ovvero 1.77 li abbia toccati e sia pronto per un rimbalzo direi 2.14 eventualmente 2.28 considerando che la media mobile a 50 2.26 quella a 102 e 33 oggi anche in Novatec è stata ricomprata qui non sono ancora convinto che il peggio sia le spalle però comunque quest'area di supporto poco sotto 1.15 sta facendo il suo dovere questo significa che un rimbalzo fino alla media mobile a 100 1.29 e mezzo poi il massimo del 2 di ottobre 1.31 e 6 quindi 1.34 e 7 1.38 e 6 potrebbero anche essere target raggiungibili oggi è il primo giorno dove ho visto anche qualche ricopertura su Antares tra l'altro con volumi anche importanti dispiace che dopo un massimo in 3.145 abbia poi chiuso 2.99 e mezzo però probabilmente qui poco sotto area 3 una base la sta provando a fare è ovvio che un rimbalzo anche solo dai per comprato con primo obiettivo 3.20 e poi 3.32 può essere centrato non volumi eclatanti ma vi devo sicuramente sottolineare una prima seduta di acquisti su IMSI qui siamo in un trading range piuttosto definito tra 0.43 e 55 e 0.47 25 sembra voglia ritornare nella parte alta del range e poi eventualmente arrivare fino alla media mobile a 100 0.477 poi qui abbiamo 0.48 0.48 e 1 altro titolo che oggi è stato comprato sicuramente cembre viene praticamente da massimi veramente importanti 35.9 qui poco sotto 32 sembra già voler costruire una base direi che per le prossime sedute potremo ritornare sulla media mobile a 50 33.4 media mobile massimo del 3 ottobre 33.6 e poi 34.2 molto forte di periodo mer tech sembra aver svoltato dopo la famosa commessa da 8 5 miliardi nuovo massimo di breve periodo a 4 67 6 se mettiamo direi addirittura un mensile qui ci vuole rimane ormai il 4 76 8 massimo di gennaio 2022 come target per questo movimento poi se lo romperà vedremo degli altri livelli considerate che cominciamo a essere però in ipercomprato dopo un periodo di anonimato è stata ricomprata già ieri ma oggi bellissima marmozo white tamburi minimo 8,25 chiusura 8,53 senza ombre senza shadow chiusura che si lascia piuttosto nettamente alle spalle la media mobile a 208 42,5 primo obiettivo media mobile a 50 8,55 4 poi 8,69 quindi area 8,80 dove transita la media mobile a 100 edilizia acrobatica ne parlo volentieri però io vi ho detto che non sto tradando il titolo perché non mi è piaciuta quella nuova quel nuovo calcolo scusate del debito che ha fatto emergere una posizione finanziaria negativa per 50 milioni di euro qui sicuramente a 12.6 c'è un minimo importante è in un trading range tra 12.6 e 15.3 c'è un micro gap da chiudere a 15.5 la mia sensazione è che il titolo voglia riportarsi nella parte alta del range per cui magari 14.3 14.45 poi 15.05 15.30 volumi bassi ho visto un interlandino passare di confindustria per il sole 24 ore però da quando sole 24 ore era andato quasi a testare la media mobile a 200 che passa poco sotto 0.53 il titolo ha rimbalzato e direi che per le prossime sedute avremo un primo obiettivo a 0.58 e poi in area 0.60 continua la fase positiva su Destination Italia mi pare che abbia acquistato anche l'amministratore delegato e direi che nonostante poi una chiusura non sui massimi di giornata ma più vicino ai minimi e il gap lasciato aperto a 0.98 ormai 1.055 dove transita anche la media mobile a 100 è assolutamente la portata poi si va in area 1.10 dove transita la media mobile a 200 bel bel movimento finalmente di Daniele Risparmio che era rimasta un po' al palo oggi rottura dei massimi del 25 di settembre quindi 20.3 fatemi vedere siamo su nuovi massimi storici quindi bellissima diamo magari uno sguardo anche a Daniele che mi sembra che oggi sia stata leggermente meno performante però comunque è sui massimi di periodo in questo caso credo che il titolo si muoverà in un trading range compreso tra 25 95 e 27 e 45 poi anche se non ha ancora fornito un segnale definitivo di uscita dalla buca come diciamo noi con linguaggio tra i nomi in cui è caduta Comal perché è passata a 3.76 massimo del 20 settembre a un minimo di 3.05 il 20 di ottobre direi che adesso finalmente mi pare abbia la volontà di voler ritornare prima a 3.27 poi a 3.38 considerato che pochi tic sotto c'è anche la media mobile a 200 e poi a 3.43 un altro titolo che di breve anche se è un'azienda che a me piace molto parlo di Comer che era scesa molto perché vedete che è scesa molto oggi fa un primo tentativo di recupero massimo il 7 di agosto a 34 oggi minimo a 26.7 se il minimo di oggi 26.7 tiene anche per le prossime sedute è probabile un rimbalzo con obiettivo 28.8 e poi si va a 30.4 mi piace abbastanza come si sta comportando anche Altitalia perché comunque è in trading range ma dà ogni tanto delle possibilità di trading ha creato un triplo minimo come supporto poco sopra 1.54 e se non viene perso 1.54 potrebbe tornare fino a 1.78 1.80 seppure con volumi ovviamente molto meno significativi rispetto a ieri continua però il buon momento almeno di breve periodo per Eles direi che fino a 1.52 1.55 anche 1.56 può arrivarci abbastanza tranquillamente poi abbiamo la media mobile a 50 che è 1.61 e mezzo direi che possiamo parlare anche di fila che è un altro titolo che di breve è stato ben venduto perché da un massimo di 8.55 e del 31 di agosto ha fatto un minimo venerdì a 7.09 oggi seconda seduta di rimbalzo direi che fino alla media mobile a 200 7.56 poi 7.69 7.73 7.77 sono target che potrebbe tranquillamente centrare anche WIT di periodo è stata decisamente venduta adesso sembra voler un po' invertire la tendenza e provare a rimbalzare con un primo obiettivo direi a 14.76 poi 15.24 voglio parlare volentieri anche di banca IFIS anzi facciamo scusate IGD perché IGD comunque è un titolo in area di minimi storici quindi vedete che sta provando quasi una cap and handle dei minimi arrotondati crescenti quindi un 2.16 e mezzo 2.19 eventualmente 2.25 e mezzo possono essere raggiunti poi mi piace molto quello che sta facendo banca IFIS oggi nuovo massimo di periodo a 16.96 cerchiamo di allargare l'orizzonte temporale con una candela con delle candele settimanali direi che a questo punto 17.70 17.90 sono obiettivi che possono essere raggiunti sempre molto interessante size getters vedete che size getters è uno dei titoli comunque più forti del listino ormai si sta per riportare sui massimi toccati 2 di ottobre a 35.5 fatemi ricordare per non fare gaff direi sì che sono oltretutto massimi storici quindi un titolo che veramente grazie anche all'accessione a 13 volte le bidda della controllata americana sta avendo veramente delle dinamiche molto molto interessanti non posso fare ovviamente tutto l'istino però voglio fare ancora i limiti perché anche qui c'è finalmente un tentativo di minimi arrotondati per cui titolo che viene da minimi storici veramente profondi quindi magari un 5.38 e mezzo eventualmente 5.57 potrebbero essere raggiunti nelle prossime sedute poi io ho in perdita in questo momento una posizione piccola su Saffilo e oggi Saffilo finalmente mi dà qualche speranza in più di non dover prendere lo stop fa una sorta di hanging man per carità però direi che 0.82 35 0.83 65 poi 0.87 35 sono obiettivi alla portata per le prossime sedute chiudo i titoli migliori al di fuori del Fuzzimib con Equita perché Equita finalmente nonostante poi diciamo un inverted hammer non ha lasciato per fortuna gap aperti però mi dà l'idea che anche Equita voglia iniziare una fase di rimbalzo fino a 3.53 357 eventualmente 361 3 e 62 andiamo invece ai titoli che oggi hanno fatto malissimo faccio vedere price allora io non voglio criticare nessuno però quando tempo fa alcuni di voi avevano scritto di price nei commenti titolo pronto per un rimbalzo quando ci sono fondamentali così deboli oggi sono usciti i dati dei price veramente rudenti sono titoli che dobbiamo assolutamente lasciare stare qui parliamo di minimi storici in sequenza quindi è inutile anche soffermarsi vi ho già detto come io non faccio più trading da tanto tempo su Portobello Portobello io ho sempre avuto delle sensazioni poco lusinghiere sui conti i fatti mi hanno dato ragione oggi arriva quasi a 9 il prossimo obiettivo è 8 e 58 poi si andrebbe addirittura a 6 e 36 però ripeto finché la società non tornerà a fare dei risultati interessanti non credo che sia un titolo da avere in portafoglio Serindustrial ecco qui per me è uno dei misteri di giornata perché comunque ovviamente parliamo di un titolo che ha fatto un nuovo massimo oggi di brevissimo a 3,44 poi è chiuso a 3,065 con volumi tra l'altro anche molto alti a questo punto è probabile nelle prossime sedute l'inizio di un movimento all'interno di un trading range tra 3,44 e 2,79 siccome ha una variazione minima e magari non lo trovo nelle classifiche devo far vedere anche il risanamento perché anche il risanamento ha dell'incredibile va a fare un massimo intraday a 0,0722 poi chiude quasi con una gravestone doji a 0,069 io non ho e mi scuso con voi spiegazioni per movimenti di questo tipo è però fondamentale che non perda il minimo di ieri ovvero 0,0584 anche se ha fatto pochi volumi vi voglio far vedere anche Tenax per farvi capire quando un titolo inizia a essere venduto soprattutto se è un growth vedete è un attimo portarlo su livelli veramente qua purtroppo c'è un bug di J-Chart ve lo devo far vedere sul giornaliero vedete ormai siamo tornati ai livelli del 21 dicembre 2020 e il livello importante che non doveva perdere ovvero 282 è stato perso nettamente 282 minimo del 7 di marzo poi Shuker anche Shuker purtroppo è ritornata quasi sui minimi di periodo ovvero 350 oggi ha fatto un minimo a 360 se vi metto un time frame settimanale vedrete che c'è il massimo della prima metà di dicembre 2020 a 3,40 che potrebbe essere un primo tentativo di pullback ma poi c'è il 2,96 e parliamo della seconda metà di gennaio del 2021 altro titolo che oggi è stato molto venduto è Unidata Unidata si ha rimbalzato dai minimi perché ha fatto 37.7 poi ha chiuso a 38.8 però vedete che Unidata è tornata praticamente sui livelli di fine marzo di quest'anno quando era andata a fare un minimo anche a 37 altro titolo ben venduto pattern vedete che discesa importante di breve qui è un titolo che parte movimento a rialzo dalla seconda metà di settembre 2020 da 3,16 quindi per carità non ha subito lo stesso destino di altre società che hanno perso oltre che i minimi anche i minimi storici però un primo obiettivo a 5,90 e poi eventualmente a 5,40 è assolutamente alla portata poi un'altra azienda che sta soffrendo tantissimo è Officina Stellare e qui purtroppo siamo praticamente tornati sui livelli della seconda metà di marzo 2021 prossimi obiettivi 8,28 più realisticamente 8,02 poi si è quotata da poco però a me i conti non sono piaciuti tantissimo quando li ho potuti leggere Emma Emma Villas al momento è ancora in ampio trading range tra 3,07 scusate ok tra 3,07 e 3,36 però io è un titolo anche qui dal quale starei lontano al momento un'altra società che sta facendo purtroppo dei minimi veramente incredibili è Seco siamo ormai vicini ai minimi storici che sono stati a 3,405 nella prima settimana di giugno del 2021 cosa penso di Seco che fosse carissima ovviamente sopra 5 adesso il price earning atteso per il 2023 dovrebbe essere attorno a 20 però attenzione che se perde i minimi storici secondo me continua ancora come hanno fatto tanti altri avanti AF in un giorno in cui il lusso soffre è normale che soffra visti dati estremamente evidenti che ha pubblicato per il primo semestre io vi ho già detto che è un target in area 0,68 voglio proseguire ancora con Digital Magic che ormai quasi ogni giorno fa minimo storico oggi a 1,98 e mezzo poi viene un po' ricoperta però anche questo è un titolo che soprattutto per un multi day al momento non va ancora acquistato poi vediamo un po' Cyberoo oggi respinta dalla media mobile a 200 2,902 entering range tra area 2,90 e 2,58 attenzione perché siamo in esercizio warrant male ancora Ariston altro titolo vendutissimo di periodo e qui adesso dobbiamo solo sperare che non perda 5,705 e continui a muoversi in questo training range partito il 22 di settembre compreso tra 5,705 e 6,39 e Cosantec dopo il rally di breve ci sta a mio avviso che faccia un inizio una fase di consolidamento con primo obiettivo 21,20 poi 20,80 e poi direi 19,90 DataLogic ve ne avevo già parlato perché vi avevo detto che attenzione finendo il piano di buyback mi fa paura che ho paura che il titolo possa tornare a 5,71 e mezzo e poi 5,60 quindi altra società che sta soffrendo tantissimo è Ascoleva siamo anche qui vicino ai minimi storici poco sotto 0,37 per il momento c'è ancora un trading range no 0,37 scusate 0,43 poi sono tante veramente le società vendutissime prendete per esempio un Italian Wine Brand è vero minimo 17,64 del 13 di settembre oggi 17,60 poi qui la 18 però vedete se mettiamo un settimanale come il titolo ha sofferto e probabilmente sta andando a cercarsi un supporto ancora più in basso 17,30 16,60 poi come vi ho detto purtroppo siamo in una fase in cui tante società che hanno una storia abbastanza recente stanno andando a fare nuovi minimi storici e il caso di Bellini oggi nuovo minimo storico a 1,74 quindi comunque ci sono ancora tante situazioni veramente difficili oggi è stata venduta anche leggermente General Finance viene per carità da mini rally di breve oggi addirittura è andato a fare 8,40 poi ha fatto un minimo a 7,80 se vi ricordate c'era stato l'incremento di quota al 7,7% di General Finance da parte di Banca Pharma Factory c'era stata mi sembra ieri un'alzata di target comunque credo che al momento proverà a fare base tra 7,75 e 7,80 EuroTech anche EuroTech situazione veramente difficilissima è proprio sui minimi di periodo e ormai vi ho già detto almeno 2,06 come primo obiettivo ma se non tiene 2,06 c'è spazio fino a 1,605 per carità rimbalzerà prima però vedete in che situazione è EuroTech che oggi a parte i volumi molto bassi se è venuta giù un po' Circle ci sta titolo sui massimi storici se dovesse tornare anche in area 6 o a chiudere il gap è stato aperto a 5,65 con quello che sta succedendo sul mercato non mi stupirei più di tanto poi ripeto sono tante le società guardiamo anche un'elica guardate un'elica come è sempre sui minimi di periodo e dobbiamo mettere un mensile per andare a vedere un livello di target per il titolo direi almeno 1,808 come minimo e vedete che poi sotto 1,808 si va a febbraio 2019 il minimo di quel mese è stato 1,355 quindi anche elica situazione veramente molto pericolosa oggi è stata venduta anche take off nuovamente però take off secondo me è il rischio di ritrovarsela sui minimi storici a 0,96 non mi è piaciuta oggi nemmeno T-nexta però qui siamo in un trading range abbastanza stretto compreso tra 15,81 e 16 e 60 c'è un gap da chiudere a 15,70 vediamo nelle prossime sedute quali intenzioni ha il titolo poi concludo per non fare un video troppo prolisso con Sabaf che oggi perde i minimi di periodo per cui primo obiettivo diventa 14,34 e poi il minimo del 28 di giugno 13,82 come potete aver notato ci sono tutta una serie di situazioni ancora piuttosto complicate il mercato è tenuto su da pochi titoli a larga capitalizzazione massima prudenza e soprattutto abbiamo visto che quando al di fuori del Fuzzimib un titolo fa nuovi minimi di periodo o peggio ancora minimi storici non c'è neanche un minimo tentativo di rimbalzo per questa sera ho concluso auguro una buona serata a tutti e ci rivediamo domani dopo la chiusura del mercato di urno grazie a tutti